buongiorno buon martedì di questa settimana sentite svolazzare i pappagallini oggi ne abbiamo 21 ho guardato il calendario per essere certa e niente come già vedete spesina dovevo farla ieri però niente ho deciso proprio di dare fondo a quello che veramente ho in frigo e mi sono accorta veramente ieri sera che sono diventata abbastanza brava anche più che brava perché ho comprato di meno per consumare di più e di questa cosa ne sono veramente contenta però terminate ormai quasi tutto praticamente ho fatto la spesa devo dire anche che è vero che ho comprato di meno ma mi è capitato anche di buttare un paio di zucchine perché sono andate a male dentro il frigo la cosa mi ha dato molto fastidio credo anche se sinceramente non doveva accadere ma credo che sia stata la busta di plastica perché ho trovato molta condensa all'indentro e all'interno e quindi credo che questa abbia scaturito poi la formazione di muffa la cosa proprio mi è dispiaciuta tantissimo però per il resto tutto ho consumato tutto ecco allora iniziamo banane ne manca una perché già l'abbiamo fatta fuori banane ne ho prese un chilo speso 17 euro e 50 tutto quello che vedete quindi banane svuoto con voi le buste così poi le ripongo ognuno nel proprio posto un iceberg io non so quanto è costata poi un sacco di patate che c'è cosa c'è ogni tanto quando mi sentono parlare parlano anche loro poi allora patate e poi zucchine ne ho prese anche un chilo oggi qua piove piove non piove calata adesso la nebbia e quindi c'è un po di tutto un chilo di zucchine sono venute due quattro cinque zucchine di cui una piccina piccina e poi ho preso di nuovi broccoli siciliani due mazzetti questo lo ricordo perché ho chiesto il prezzo 2 euro e 50 per questi due mazzetti di broccoli faccio vedere anche l'altro ecco potevo farmeli pulire perché adesso io toglierò tutte queste foglioline vediamo cercherò adesso su internet se posso dare queste foglioline belle lavate ai pappagallini e niente queste qua questi due bei broccoli perché voi sapete perché ogni tanto io lo ripeto sempre stavano sfuggendo le patate quanto io preparo delle cose per il mio piano alimentare poi gabriele vuole sempre assaggiare non so incuriosito io a volte mi faccio delle cose che comunque sono buone altrimenti non è che me le preparerei però a volte io per la fretta perché cucinando anche per tutti gli altri quindi io alla fine io mi spesso rimando sempre per ultimo e quindi magari bollisco in questo caso i broccoli e poi faccio un assemblamento di quello che sono le proteine con i carboidrati ecco io avevo fatto settimana scorsa broccoli con pasta integrale e pasta quella di legumi poi saltati i broccoli così con un po di cipolla quindi una pasta asciutta praticamente non so non so che cosa ha scatenato in gabrie e quindi l'ha voluto assaggiare gli è piaciuta tantissimo e vuole che gliela rifaccia quindi intanto ho comprato i broccoli devo vedere se ho ancora pasta di legumi quella che compro della vivo meglio dell'md credo di no che non basti per fare il suo piatto anche se poi lui non nemmeno se ne è accorto che c'era la pasta di legumi a cui piace comunque moltissimo perché dissi solamente pasta integrale e broccoli comunque sia devo rifare questa pasta perché me l'ha richiesta tantissimo ho preso solo due finocchi anche un pochino caretti perché generalmente adesso è periodo si trovano 5-2 euro così però io non ho voluto questi sono costati 50 centesimi uno devo dire che sono anche belli pienotti e anche integri va bene anche così ne sto comprando solo ne ho comprati solo due perché l'ultima volta quando ne ho comprati cinque alla fine io pensando per tutta la famiglia comunque per i ragazzi mio merito non ne mangio alla fine me le hanno fatti mangiare tutti a me solo quando proprio ho consumato l'ultimo me le hanno chiesti e quindi a quel punto già mi era capitato all'md di comprarne due perché poi me le hanno cercati proprio come non ci fosse nient'altro da mangiare in casa ne ho presi due e le hanno consumati e allora ne ho presi adesso soltanto due così sono a rapida consumazione non devo stare lì a pregare io loro per mangiarle adesso che me li stanno chiedendo loro questo è poi altra richiesta sentitissima della serie mamma non desidero moltissimo le mele ecco le mele desiderio di gabri cosa c'è niente tranquilli stanno mangiando desiderio di gabri però a lui piacciono le mele rosse quindi ne ho preso un chilo rosse e un chilo gialle gialle comunque a me piacciono poi male che male che vada che non gabri poi adesso che sono a casa le mele così certamente sperando di essere smentita non le consumerà però dico ripeto spero di essere smentita visto che ho eseguito il suo desiderio se casomai non le consumerà non le consumerà tutte sicuramente si farà una torta di mele che questa va sempre a ruba piace sempre e poi un'ultima cosa ho comprato 2 euro di uova che sono 14 uova in tutto e sono qua messe in questa busta quindi potrei mettere nella busta di carta però con questa umidità avrei fatto la fittata lo stesso se ne è reso subito conto è evitato e quindi 14 uova per 2 euro e questa è tutta la spesa di oggi ve la faccio vedere un pochino meglio magari questo è lo sposto qua questa è tutta la spesa di oggi che ne dite? cosa ve ne pare? quale menù costruireste su questa spesa? cerco di farvi vedere tutto insomma per una settimanina può andare non so se è andato a fare la spesa devo andare a fare la spesa grossa quindi aspettatevi anche un altro bel video ricco di cosine non so se md euro spin o sicuramente entrambe perché devo andare anche all'emd per comprare delle cose e quindi questa è tutta la spesina di oggi cosa ne dite? vi stavo chiedendo un menù da costruire vabbè la solita pasta insomma con verdurina e la frutta c'è un po' di tutto vediamo come detto se comprerò altre cosine tipo all'euro spin compro spesso i cavolini di Bruxelles peperoni non ho voluti prendere perché l'ho preso la settimana scorsa e questa settimana non prevedo di fare qualcosa a meno che trovo quelli grossi da fare ripieni insomma adesso penserò e studierò il menù settimanale che ancora siamo a martedì e non ho costruito perché ieri sera ogni tanto capita penso a chiunque mi stufava tantissimo cucinare quindi siamo andati di panini ieri a pranzo a pranzo cosa ho fatto i ragazzi avete visto la foto lì su instagram per chi mi segue o nella pagina facebook avete ho pubblicato la foto del riso con verdure e polla al curry oggi si va di pasta al sugo e poi per stasera adesso vediamo adesso mi metto buonina buonina e scrivo il menù insomma questo è quello che diciamo devo andare a fare adesso nell'immediato è stato un piacere per me fare questo video perché è da tanto tempo che non sto facendo video sapete i motivi sarà così ormai penso per tutto il mese ci sarò pochissimo però dopo spero da febbraio di tornare alla carica con tutti voi ho veramente tantissime cose da condividere con voi quindi un bacione vi saluto e noi ci vediamo presto ciao